E buongiorno e benvenuto su The Talk About. In questo video torneremo a parlare di Catlea Pro che è una piattaforma che ci permette di guadagnare cripto ma anche buoni Amazon. Te ne parlo ovviamente dopo la sigla. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel like su questo video perché mi aiuteressi davvero tantissimo a far crescere il canale. A te non costa nulla ma per me è un aiuto davvero gigantesco. Altra cosa che ti chiedo, importantissima, iscriviti al canale e premi sulla campanella perché in questo modo verrai notificato non appena pubblicherò di nuovi contenuti e sicuramente su questa piattaforma farò di nuovi contenuti perché sarà da seguire molto bene. Ho già fatto infatti un video precedente che ti parlavo di Catlea Pro. Che cos'è questa piattaforma se ti fossi perso video precedente? Catlea Pro è una piattaforma che ci permette di guadagnare dei punti e questi punti potremmo andare a scambiarli per USDT, quindi criptovalute, oppure buoni Amazon. Nel video precedente era ancora tutto a stato embrionale. Ci si poteva solo iscrivere e sarebbe a fare la pre-iscrizione per andare a prendere i posti migliori, i posti più alti diciamo. Questo perché? Perché non solo genereremo dei punti con i nostri pacchetti ma tutte le persone sotto di noi che andranno a generare altri punti daranno una percentuale a noi, quindi cresceremo molto più in fretta. Ora faccio questo video aggiornamento perché il sito ora è attivo, quindi il sito diciamo che è praticamente completo. Non si può ancora iniziare ma si può ancora prendere posto gratuitamente. È importantissimo prendere il posto prima possibile per avere una situazione molto vantaggiosa per fare più punti. Quindi, ripeto, è gratuito, prendere postazione è gratuito, trovi il link qua sotto in descrizione per registrarti. Registrati, prendi posto, poi quando verrà lanciata l'applicazione la guarderai, se ti piace parteciperai, se non ti piace il tuo posto verrà dato a qualcun altro. Adesso infatti guarderemo insieme il sito come è fatto, ti spiegherò le basi, anche se ancora non si può fare nulla si può già capire a grandi linee come funzionerà e sappi che il lancio ufficiale sarà il 3 aprile. Che cosa succederà il 3 aprile? Esattamente a mezzanotte, quindi tra la notte del 2 e il 3 aprile insomma, sarà possibile attivare i pacchetti. I pacchetti partono da 20 dollari e tu avrai 24 ore per comprare un pacchetto e mantenere la tua posizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che se hai perso una posizione ottima in prelancio, Catlea Pro ti terrà riservata quella posizione per 24 ore se andrai a comprare almeno un pacchetto da 20 dollari. Se invece non lo comprerai perché vorrai ancora aspettare, vorrai riflettere, avrai cambiato idea, dopo 24 ore il tuo posto verrà assegnato a qualcun altro in ordine cronologico di iscrizione. Quindi mi raccomando se vuoi partecipare, entro le 24 ore del 3 aprile attiva almeno un pacchetto così intanto inizierai a far punti e intanto ti prenderai tutta la rete che andrà sotto di te. Che cosa ce ne facciamo di tutti questi punti? Come ti ho già detto potrai scambiarli per USDT o Amazon, conta che un punto di Catlea Pro equivale a 50 centesimi. Di conseguenza ogni due punti sarà un dollaro. Ora sul sito ti farò vedere anche già come acquistare i buoni Amazon con questi punti, insomma ti faccio vedere un po' di tutto. Quindi direi seguimi nel computer. Allora eccoci sul sito di Catlea Pro, in descrizione trovi il link per iscriverti e appunto prendere posizione gratuitamente. Ricordo la posizione che prenderai ti sarà garantita dal 3 aprile per 24 ore fino a quando comprerai almeno un pacchetto. Se non comprerai un pacchetto la tua posizione verrà ceduta a qualcun altro e poi quando deciderai di comprare il pacchetto prenderai la posizione che ti aspetterà in quel momento. Se vuoi tenere la posizione presa col prelancio devi appunto attivare entro le prime 24 ore. Questa è la schermata iniziale. Allora intanto per adesso il sito è solo in spagnolo ma è semplice comunque in caso puoi usare il traduttore se preferisci. Qua sotto vedrai subito i pacchetti e i pacchetti completati. Ti ripeto che per ogni pacchetti tu andrai a generare punti, potrai avere attivi quanti pacchetti ti pare. Con i punti potrai o comprare altri pacchetti o trasformarli in USDT oppure trasformarli in buoni Amazon. Nella schermata principale inoltre troverai il tuo referral, potrai copiarlo e mandarlo a qualcuno se vorrai farlo iscrivere con il tuo referral. Oppure mettendo qui una mail farai invia e in automatico il portale manderà una mail di invito all'indirizzo che andrai a mettere. Se noi andiamo qua c'è lo shop. Vediamo subito come funzionare lo shop. Lo shop non è ancora attivo eh. Mi raccomando lo shop inizierà dal 3 aprile. Allora un pacchetti costa 20 dollari. Possiamo comprare 5 pacchi insieme 100 dollari, 10 pacchi insieme 200 dollari, 20 pacchi insieme 400 dollari. Ripeto ci sono due modi per generare i punti. Uno è con i pacchi attivi quindi più pacchi attivi hai più genererai punti. Due sono le persone sotto di te che andranno a generare punti, tu ne prenderai una percentuale. Ti ho parlato delle percentuali nel video precedente. Comunque appena il portale sarà attivo farò un altro video dove ti spiegherò tutto questo nel dettaglio. Se però scendiamo vediamo che ci sono i buoni Amazon. Come si comprano questi buoni Amazon? Con i punti. Ogni punto che vai a generare varrà 50 centesimi. Infatti vediamo che un buono Amazon da 20 dollari potrai comprarlo con 40 punti. Con 100 punti comprerai un buono Amazon di 50 dollari. Con 200 punti di 100 dollari. Con 1000 punti di 500 dollari. Quindi quando avrai punti sufficienti ti basterà premere questa icona qua e andrai a generarti un buono Amazon da spendere come ti pare. Per quanto riguarda il deposito non si può ancora fare al momento. Quando si potrà fare, ripeto ti farò un altro video, ti farò vedere il deposito, l'attivazione eccetera. Presumo che sarà poi questa icona qua. Se adesso vado a premerla mi esce già fuori il pop up del pagamento. Posso comprare il pack in USDT su TRC20, in USDT su BEP20, in USDT su ReteMatic. Io userò probabilmente la BEP20 che è quella di Binance, velocissima, costa poco eccetera. Ovviamente se la premora mi dice che qualcosa non è andato a buon fine, ovviamente perché non è ancora disponibile il deposito. Appena sarà disponibile basterà fare così, si dovranno depositare 20 dollari se si vuole comprare questo, 200 se si vuole comprare questo e avanti così. Ovviamente nei movimenti potremo vedere tutti i nostri movimenti, depositi, prelievi eccetera. E se andiamo sotto la nostra rete vediamo come è strutturata la nostra rete, quante persone abbiamo sotto al primo livello, al secondo livello, al terzo livello. Ripeto, ogni persona sotto di noi che genererà punti ci darà a sua volta altri punti. La cosa più importante sarà proprio fare più punti possibile. Sta qua poi ognuno usare la propria strategia. Se magari utilizzare i primi punti per andare ad acquistare altri pacchetti, se magari andarli subito a prelevare e acquistare di tasca proprio più pacchetti. Quindi insomma poi penseremo come fare una volta che la piattaforma sarà attiva. Per quanto riguarda quanto si va a guadagnare, che percentuale di punti arriva, questo ti faccio aspettare che la piattaforma sarà attiva in modo da poterlo vedere con mano. Perché insomma preferisco che sia tutto attivo e provare. Comunque adesso il sito è già su. Rispetto al video precedente dove potrei registrarti, avevi soltanto il tuo account, in questo momento puoi già vedere come sarà tutto quanto. Ora non ci resta che aspettare prendendo posto il prima possibile se già non l'hai fatto. Se conosci qualcuno che vuole partecipare, fagli prendere posto, visto che comunque ora è gratis. Quindi mentre pensi se farlo, se non farlo, se partecipare, se partecipare con chi eccetera, intanto prenditi il posto. Se puoi variativarlo, attivi. Se non attivi, dopo 24 ore il tuo posto verrà dato a qualcun altro e se poi deciderai di farlo prenderai un posto più basso, ma comunque potrai tranquillamente partecipare. Direi che per questo breve video è tutto, non c'è altro da farti vedere. Ti chiedo ancora, se non l'avessi già fatto, un like su questo video. Io rilascio questi contenuti sempre in modo gratuito. Stare dietro tutto quanto ti garantisco che è un lavoro molto impegnativo, ma con un like mi puoi aiutare davvero tantissimo. Cosa importantissima che ti chiedo e questo lo devi fare prima di tutto per te, iscriviti al canale e premi sulla campanella. Perché sicuramente dal 3 farò dei contenuti su questa piattaforma, seguiremo questa piattaforma passo a passo, se ci saranno novità te le verrò a raccontare, ti farò vedere il mio progresso su questa piattaforma, ti farò vedere i guadagni, ti farò vedere tutto quanto. Quindi per non perderti questi contenuti, l'unico modo che hai è iscriverti e premere appunto sulla campanella. Ovviamente su questo canale non parleremo solo di Catleia, si parla anche di altre cose e se trovi i miei contenuti interessanti così appunto non ti perderai assolutamente nulla. Io ti ringrazio di essere arrivato fin qua, ci vediamo presto ovviamente nel prossimo contenuto.